Dopo una gravidanza a tratti molto complicata, le gemelle Penelope e Ginevra sono finalmente venute al mondo. Veronica Peparini e Andreas Muller non potrebbero essere più felici di così, una gioia mostrata anche attraverso i social. Il ballerino ha infatti pubblicato la prima foto della compagna dopo il parto, raccontando qualche dettaglio in più e anche un retroscena che lo ha sorpreso e commosso. Ecco le sue parole. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e Andreas si è concesso qualche minuto anche per parlare con i tanti fan che sono rimasti in attesa di sapere qualcosa di più. Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del Cesareo, che è una scena inspiegabile, ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze, ha rivelato Andreas dopo il parto della compagna. Il ballerino ha però aggiunto anche ulteriori dettagli. Dormiremo in camera stanotte, ma le piccole non saranno qui con noi nonostante stiamo benissimo. E io faccio veramente fatica perché le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare e mi hanno guardato. Ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore. Un'emozione dunque incredibile e difficile da contenere che Andreas Muller ha voluto condividere con le persone che lo hanno sempre supportato. Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia, ho capito che la mia vita è completamente cambiata. Non lo so spiegare, ma sono fortunato. E Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione, passata, presente e futura. Iconica, ha concluso l'ex ballerino di Amici. Ma oltre alla gioia di aver finalmente dato alla luce le loro due splendide bambine, Veronica e Andreas sono rimasti sorpresi da una commovente coincidenza. La prima persona a cui Andreas aveva annunciato la gravidanza era stato il suo amato zio Salvatore, il quale però è venuto a mancare pochi mesi dopo, non riuscendo così a conoscere le gemelline nate proprio ieri. I fan di Andreas hanno però fatto notare al ballerino che proprio ieri si festeggiava San Salvatore, una coincidenza apparsa da subito incredibile. E tu cosa pensi della notizia?